Era la notte del 5 gennaio 2023 quando Sandro Mugnai uccise a colpi di fucile il vicino Gesim Dodoli che stava demolendo la sua casa con una ruspa. Ad un anno di distanza la percura di Arezzo non ha ancora chiuso l'inchiesta sul delitto di San Polo. Secondo il GIP Giulia Soldini che scarcerò Mugnai si trattò di legittima difesa, una condotta quindi non punibile. Aspetta adesso al PM Laura Tadei chiudere l'istruttoria una volta concluse le perizie, due le strade percorribili, la richiesta di rinvio a giudizio o quella di archiviazione. Il magistrato dovrà stabilire se si è trattato di legittima difesa o se c'è stato un eccesso. Sandro Mugnai ha indagato per omicidio. Alla base del gesto di quella folle notte le liti tra i due vicini. Gesim Dodoli quel 5 gennaio avrebbe prima travolto quattro auto parcheggiate di fronte al casolare, poi avrebbe iniziato a colpire con la benna della ruspa la facciata della casa, distruggendo l'ingresso e una finestra e danneggiando gravemente le mura. A quel punto i cinque colpi esplosi con un fucile da caccia da Sandro Mugnai, tre proiettili centrarono l'addome, uno la spalla, non lasciando scampo a Gesim Dodoli.